numero 4 il pannello isolante e psd corbit in finitura finta mattone è di altissima qualità con un accoppiamento perfetto senza necessità di stuccare la sua finitura ruvida al tatto è estremamente resistente all'usura e al tempo offrendo una finitura resistente ai raggi uv e agli agenti atmosferici la composizione a base di resine è resistente alla compressione fino a 0,313 megapascal fornendo un'eccellente resistenza agli urti il prodotto è impermeabile termoisolante ed evita la formazione di muffa da condensa la sua facilità di applicazione lo rende ideale per interni ed esterni senza sporcare durante la posa i pannelli non producono batteri hanno una superficie non infiammabile classe b1 e possono essere anche verniciati il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 3 questo pannello a forma di mattoncino ricostruito in polistirolo resinato è un prodotto di altissima qualità con certificazione per interno ed esterno la misura è di 100 per 50 centimetri e lo spessore è di 2 centimetri è perfetto per l'isolamento termico ed è dotato di accoppiamento senza stucco grazie alla sua resina è impermeabile evitando la formazione di muffa da condensa la sua applicazione è semplice e non sporca durante la posa si tratta di un prodotto top di gamma decorativo ed eccellente per l'isolamento termico in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 2 pannello in polistirolo grezzo finto mattone di facile applicazione leggero e non sporca offerto da decoresi in marca si dimostra un prodotto di qualità con una misura di 110 per 56 centimetri è termoisolante antiriverbero e autoestinguente e viene utilizzato per il rivestimento di pareti interne negozi cinema ristoranti centri commerciali e per l'allestimento di vetrine o scenografie grazie al suo basso prezzo è un prodotto molto accessibile ed economico e può essere applicato anche in modo autonomo dopo l'applicazione può essere verniciato con una idropittura o una vernice a base di acqua per ottenere un aspetto reale al 100 per cento se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 i pannelli da rivestimento per interno esterno in polistirolo e ps effetto finto mattone de corbit isolanti sono una soluzione innovativa ed esteticamente gradevole per le facciate sia interne che esterne realizzati con dimensioni di 100 per 50 per 2 centimetri questi pannelli si caratterizzano per la loro resistenza agli urti e all'azione dei raggi uvi e delle intemperie il trattamento con un composto di resine estremamente dure ne garantisce la durevolezza nel tempo così come la conservazione delle loro proprietà isolanti la lavorazione inoltre offre diverse sfaccettature di finta pietra e una varietà di colorazioni contribuendo così all'isolamento termico ed acustico delle pareti delle facciate e dei muri acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione